Medicina di emergenza, criticità proposta in nuovi modelli organizzativi per il territorio ionico. Il tema del convegno in programma il 17 e il 18 ottobre a Palagianello nella Masseria Sacramento. Il convegno presentato nella sede della Direzione Generale dell'Asola di Taranto vedrà autorevoli esperti di livello nazionale ed internazionale, partendo dalle proprie esperienze in altre realtà territoriali, guardare i nuovi orizzonti messi a disposizione dalle più moderne tecnologie e dagli scenari applicativi in emergenza dell'intelligenza artificiale. Linee progettuali finalizzate alla più urgente implementazione di nuovi modelli organizzativi di ottimizzazione e di potenziamento dei percorsi organizzativi e di integrazione del sistema di emergenza territoriale 118 e del pronto soccorso ospedaliero nella provincia di Taranto. Ci chiediamo come poter fare meglio e sempre meglio nonostante le criticità e abbiamo anche la soddisfazione attraverso vent'anni e più di lavoro continuato, estenuante, intensissimo, di avere dei punti di forza che presenteremo. Il livello di risposta del sistema dell'emergenza in questa provincia è di qualità. Un confronto chiaro che permetta di scattare una foto altrettanto chiara delle emergenze e urgenze sul territorio. Sappiamo bene che è un tema di sicurezza sociale prima di tutto, è un tema che investe tutte le istituzioni e quindi noi vogliamo affrontarlo nel migliore dei modi, tenuto conto che c'è una carenza importante della maggior parte delle figure coinvolte in quella multidisciplinarietà dell'intervento nell'emergenza in urgenza. Quindi confrontarci con illustri professionisti che vengono da tutta Italia. Grazie. Grazie. Grazie.